Qualunque potrei dire che sono morti tutti i miei parenti e i miei parenti erano tutti degli artigiani e io avrei voluto essere un artigiano come loro ma non ci sono riuscito neanche in quello, non sapevo cosa fare di me stesso e per fortuna ho avuto dei professori dell'università che mi ha spinto a fare questo mestiere di studiare i testi e non ho fatto altro che studiare i testi, lo scrivere a secondario e mi piace camminare, se qualcuno mi dice in le cose più importanti in cui credo sono l'aria e la seconda cosa sono tutto quello che ha scritto San Francesco, i fioretti di San Francesco e i suoi cantici. L'aria viene prima di tutto. Grazie.